In Italia si è costituita una rete di comuni che intendono regolamentare l'uso dei pesticidi sui suoli pubblici. Questo significa che questi comuni scelgono di non utilizzare pesticidi, in particolare il glifosato, in giardini pubblici, aree scolastiche, verde pubblico e nello stesso tempo questi comuni si mettono a disposizione dei contadini che intendono iniziare un percorso virtuoso verso il biologico. Questa realtà ci spinge a prendere in considerazione quanto è importante per la salute pubblica e anche dei nostri contadini il non utilizzo di prodotti chimici di sintesi nel loro lavoro quotidiano e anche sui suoli e sui terreni. Per la salute dei cittadini in primo luogo dei contadini.